Riccardo Iotti, lo scorso sabato è intervenuto all'incontro con il Comitato di Quartiere Nuova California in cui sono state sollevate diverse problematiche, tra le quali anche la questione delle torri. Come è andata e cosa c'è di nuovo? Qual è il punto adesso? Sì, ho partecipato a questo incontro, come sempre, con i cittadini di Nuova California e con il Comitato di Quartiere di Nuova California, che ringrazio perché è sempre attento comunque alle problematiche del quartiere ed è un punto di riferimento per l'amministrazione. Nello specifico ci sono toccate tante tematiche che riguardavano la zona di Nuova California e Tor San Lorenzo, tra cui il problema delle torri. Devo dire che c'è stata anche una grande collaborazione da parte del consigliere Abbate e ci siamo messi entrambi a disposizione del quartiere che subisce quotidianamente dei disagi gravissimi per la presenza di extracomunitari in quella zona. ci siamo messi appunto a disposizione per approfondire la tematica e capire cosa in realtà sta succedendo in attesa appunto che venga conclusa la transazione a livello bancario e quindi capire cosa sta succedendo veramente, come possiamo anche essere utili noi come amministrazione. Ecco, qual è il supporto che può dare l'amministrazione in questo caso? L'amministrazione si è messa a disposizione sia per le autorizzazioni eventualmente per l'abbattimento e la ricostruzione. Siamo a disposizione con i servizi sociali laddove ci siano dei minori che debbano essere tutelati. Siamo a disposizione con la polizia locale, con le protezioni civili. Abbiamo dato una massima collaborazione coinvolgendo tutti gli attori, compresi anche ASL, Ufficio Ambiente e Vigili del Fuoco per qualunque intervento sia necessario in quella zona. Quindi siete in attesa nel senso che partire con tutto questo non dipende dall'amministrazione comunale? No, non dipende dall'amministrazione comunale ma dipende appunto dalla proprietà quando saremo certi che ci sia una proprietà noi stiamo a disposizione per tutto ciò che concerne la riqualificazione e lo sgombero di quella zona.